Dimissioni immediate del presidente Luciano D'Alfonso a cui è stata imputata una incapacità di governo che ha poi prodotto anche il deludente risultato elettorale del PD e parola ai cittadini abruzzesi con la possibilità di tornare il più presto possibile alle urne. Il Movimento 5 Stelle dopo l'esaltante risultato delle elezioni del 4 marzo non fa sconti al governo regionale accusato di aver pensato soprattutto a tagliare i servizi. Le dimissioni del presidente D'Alfonso le hanno chieste i cittadini abruzzesi dandogli una fiducia che raggiunge a malapena il 14%. Il presidente D'Alfonso sta attualmente tenendo in ostaggio la regione, l'ha tenuta in ostaggio durante la campagna elettorale per la propria carriera politica. Adesso che ha raggiunto l'obiettivo noi come cittadini prima di ogni altra cosa ma anche come consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle gli chiediamo di dimettersi immediatamente perché lo vogliono i cittadini abruzzesi e di fatto per manifesta incapacità a governare l'Abruzzo. Oggi scopriamo che il presidente D'Alfonso ha anche scoperto il mandato che gli hanno conferito i cittadini abruzzesi per andare in Senato e dunque dovrebbe rispettare questo mandato. Io mi domando dove risiede invece il mandato che i cittadini gli hanno dato a presiedere Regione Abruzzo, a governare Regione Abruzzo. Il presidente D'Alfonso dice di fatto quello che più gli conviene ma i cittadini abruzzesi hanno detto un'altra cosa, hanno bocciato il presidente D'Alfonso che ripeto non arriva al 14% come non arriva o meglio supera appena il 14% Forza Italia. Forza Italia e il Partito Democratico insieme non fanno la forza del Movimento 5 Stelle. Un abruzzese su due quasi ha votato per il Movimento 5 Stelle. Noi siamo pronti a governare e lo faremo nell'interesse soltanto dei cittadini.